Era la notte del 27 settembre 2017 quando una banda composta da quattro malviventi fece saltare in aria il bancomat della filiale di Poggio Fiorito nel Chietino della Banca Popolare di Bari, Extercas. In Genti i danni allo stabile, 18 mila euro il bottino che i quattro portarono via con l'ausilio di una macchina, una Volkswagen Golf poi rinvenuta nelle campagne di Miglianico. A circa un anno di distanza è stato arrestato uno dei quattro componenti di quella banda, il trentenne pluri pregiudicato foggiano Francesco Pesante intercettato proprio a Foggia dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ortona che hanno portato avanti le indagini con gli uomini del comando provinciale di Chieti della stazione di Orsogna e del RIS di Roma. Ad incastrare il giovane sono state le tracce riscontrate sia su quel che è rimasto del bancomat sia sulla macchina abbandonata, materiale che è stato analizzato dagli agenti del RIS e che hanno portato all'individuazione del malvivente per il quale la procura di Chieti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, porto abusivo di materiale esplodente, danneggiamento aggravato e contraffazione. A scientificazione siamo arrivati attraverso l'esame di tutta una serie di dati tecnici dall'esame dell'esplosivo alle tracce rinvenute sia sul luogo sia sul mezzo utilizzato, posso dire anche altre attività tecniche e alla fine l'insieme di questi elementi visti singolarmente ma uniti in un unico quadro ci hanno permesso di dirlo con assoluta certezza che lui l'autore di quella di quell'assalto al bancomat. E' stato un lavoro certosino, lungo, complesso che ha coinvolto noi dell'arma di Chieti e di Ortona che eravamo competenti del territorio ma senza l'ausilio del nucleo investigativo sempre qui di Chieti, del raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma e dell'arma di Foggia non saremmo mai riusciti ad ottenere il risultato che è stato ottenuto. L'assalto e l'esplosione dei bancomat con la tecnica della cosiddetta marmotta è tipico di bande del Foggiano e le indagini sono in corso per individuare gli altri tre componenti della banda e poi eventuali nessi con i dieci pregiudicati di Foggia e Ortonova che costituivano la cosiddetta banda della marmotta e arrestati dai carabinieri di Terramo lo scorso maggio. La tecnica della bancomat consiste nell'arrivare sul luogo dove loro intendono il bancomat che intendono assaltare e inseriscono all'interno della tessura di prelievo un dispositivo chiamato marmotta al cui interno c'è una dose di esplosivo che è opportunamente innescato, gli dà il tempo di allontanarsi quel tanto che è sufficiente ad aspettare l'esplosione e quindi ad avere il bancomat di velto e a prelevare poi quelli che sono i contanti e le casse all'interno del dispositivo automatico.